Pronto Beppe, sono Antonio Senti, ho fatto oggi il primo allenamento con i ragazzi Ma quando arrivano i rinforzi che mi hai promesso, Beppe? Guarda che qua è la situazione imbarazzante Oggi migliore in campo, è stato Padoin Padoin Questo non lo posso accettare, Beppe Povero Padoin Quando? Domani arrivano Pure i turbe, sai che ci tengo a quello che mi piace Che sia domani però, è che hai una vita che dici così Ti tengo d'occhio, eh Beppe Scusa Beppe, scusa Colpo di mercato della Roma che soffia i turbi alla Juventus Vidal e Pogba con le valigie in mano, direzione Manchester Centrocampo bianconero in mano a Padoin Ma porca puttana, porca Mi piglio per il culo Marotta Ma basta, ma basta, li faccio vedere io Antonio Conte si va a prendere in giro da nessuno Vado nel spogliotone da ragazzi, vado Allo spogliotone Oh raga, ieri dovevate vedere cosa ho fatto con la Domenico L'ho presa e... No, no Ragazzi, silenzio Anche lì Mi sa che è il mister Buongiorno ragazzi, no no, state pure seduti Buongiorno mister A nome del gruppo volevo dirle che siamo tutti felici di avere ripreso subito questi allenamenti durissimi con lei Sono felici E che domani mattina, se vuole, la squadra alle 6 è già in campo Macchiellini Smettila di leccare il culo Porca Dai ragazzi, non litigate per favore Non ci sarà nessun allenamento domani Almeno non con me Attenzione Perché Antonio Conte, il migliore allenatore del mondo Non sarà più il vostro allenatore Mi dimetto Ma porca di quella Antonio, non puoi farmi questo Avevo giocato sul rinnovo Porca Basta Gio Antonio, non andargene Per favore Gio Antonio, voglio anche io Voglio venire con te Gio Antonio Porca di quella Dai Gigi Non dire certe parole davanti al Giovinco Ha solo 8 anni Cazzo, me ne frega Mi ha rotto le balle anche lui Porca Dimmi te se mi tocca giocare con i bambini alla mia età Calma Cicci, calma Dai piccolo Sebastiano, non piangere Ormai sei un ometto, vero? Un ometto Sì, sì, sono un ometto Bravo Seba, sei proprio un ometto Giorgio, lo fido a te Mi raccomando Ho lasciato i gormiti sui Pokémon nell'armadietto Ricordati Giovedì e martedì alle 7 c'è il karate Al 9 e mezza a letto Subito Arrivederci ragazzi È stato un piacere Ragazzi Il mister se n'è andato Non ce l'aspettavamo Ma dobbiamo stare calmi e uniti Porca di quella Ragazzi, zitti, mi sa che è pavennezza e che ha bussato Buongiorno ragazzi Sono qui per leggervi il comunicato ufficiale della società da parte del presidente Andrea Agnelli Sentiamo Cari ragazzi Virgola Virgola Antonio se n'è andato E nel culo ce l'ha piantato No Virgola Non si leggono le virgole La colpa è di Marotta il pirata Che ha fatto una gran cagata Ma che comunicazione è? Virgola Ma tranquilli dovete stare Perché Allegri vi verrà da allenare Punto e virgola Firmato Andrea Agnelli Ma porca di quella Avevo giocato live Mancini nuovo allenatore Porca di quella Mi sono giocato ad amico Porca di quella Ragazzi, zitti, mi sa che è mister Allegri Cos'è una vedetta? Buongiorno a tutte Buongiorno mister Come vede la squadra È felice di accoglierla Ed è a sua completa disposizione Ma smettila di leccare il culo Ragazzi scusate Scontate un attimo Facciamo un paio di giri di campo Noi non facciamo caso di niente Allegri Qua comandiamo noi Comanda il Mario C'è poco da stare Allegro Allegri Venga questa pittura Puttana vaga Svavos La gestione Buongiorno a me Aiuto 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 Salvatelo 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 Svavos 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 Svavos